Sei tornata a casa in questi giorni, hai visto quello che è successo, insomma, se ci racconti un po' le tue emozioni, soprattutto quello che ti ha colpito di più, racconti dei tuoi vicini di casa o dei tuoi familiari, insomma. Sì, diciamo che è stato un periodo abbastanza duro per il mio paese, per tutto il Veneto, il Friuli e il Trentino. Nel mio paese a Sappada è stato triste vedere le persone che comunque erano tutte in panico, perché quella notte io non c'ero perché ero in raduna Oberov, però mi hanno raccontato, la mia famiglia mi ha raccontato che sono state ore brutte perché il vento era fortissimo, l'acqua scorreva a fiumi e è stato brutto vedere come anche le case scoperchiate, i vitetti giù per terra, però il sindaco ha fatto tante cose buone e ha messo del suo per migliorare subito, da subito, perciò le strade sono percorribili, hanno giustato i tetti e le persone sono molto più tranquille, perciò è stato bello anche vedere come le persone si sono adoperate per risolvere i problemi e speriamo che ci risollevino presto. Avrà fatto un certo effetto vedere il tuo poligono di Fornia Voltri con tutti quei danni, insomma, è una cosa che era immaginabile. Sì, purtroppo ho visto le foto perché non mi hanno permesso di andare giù perché la strada era chiusa, però sì, ho visto che ci sono stati tantissimi danni e spero che si risolvano perché avevano appena fatti i lavori e avevano appena aggiustato le cose e vedere tutto allo sfascio è stato brutto, però ci risolleveremo. Sei passata in questi giorni in Val di Fiemme dove tu vivi, c'è stato veramente diversi giorni con maltempo che ha causato tantissimi danni, che effetto ti ha fatto? Cosa hai visto? Se ci racconti quello che è stato proprio la tua sensazione vedendo quello che è successo? Beh, sicuramente io sono stata a Oberhof quando è successo tutto, sono tornata il giorno dopo, meno male che sono arrivata a casa perché tanti non sono neanche riusciti a tornare a casa o spostarsi perché appunto sono state rotte tanti ponti, tante strade, gli alberi in giro e veramente è stato un disastro e parlando anche con la gente che ha proprio vissuto quel momento hanno detto che non hanno mai visto una roba del genere hanno preso proprio paura e sicuramente non solo in Val di Fiemme ma appunto anche nella provincia di Beluno anche in Alto Adige ha fatto dei danni e adesso meno male, sembra che il peggio sia passato purtroppo per la gente sì, alla fine è difficile a dire qualcosa perché almeno io non mi sono trovata proprio in questa situazione però immagino la gente a cui è successo è stata un po' traumatizzata tutta la situazione però sì, speriamo che si risolve il prima possibile e che la gente si tranquillizza di nuovo un po'. C'è un racconto in particolare che ti ha colpito o un'immagine che hai visto magari anche sui social oppure che hai visto con i tuoi occhi che ti ha fatto veramente effetto perché magari è un posto che frequenti abitualmente e che è totalmente cambiato? No, sono andata a correre la mattina il giorno dopo quando sono tornata a casa sicuramente il mio solito percorso ho dovuto un po' variare perché appunto c'erano tutti gli alberi in giro e quello sicuramente ha fatto un certo effetto però ho più seguito sui social e sicuramente la tragedia che è stata, che ho visto a Di Maro che purtroppo è morta la signora che adesso il papà è da solo con due figli senza casa è stato veramente sì, mi ha colpito molto e purtroppo è andata così, c'è poco da dire. Grazie 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 Grazie